ragazzi buonasera rufus garage vi farà delle precisazioni su come si regolano le puntine perché nel mio video in uno dei miei video precedenti un utente un rosario perrella ha detto che sbaglio nel misurare e dare indicazioni su come si misurano le puntine però io mi attengo a quello che dice la casa madre oppure la polini o qualsiasi altro gruppo di elaborazioni dunque in particolare la polini dice che l'anticipo va effettuato fatemi trovare un attimo il punto allora accensione la versione con contatti portare l'anticipo a 2,2 millimetri prima del punto morto superiore oppure a 29 misurati sulla fascia del volano corrispondenti a 23,4 gradi cosa significa questo è un motore di un 50 guardate lo faccio girare così non potete dire che baro lo porto al punto morto superiore ci sono guardate punto morto superiore di un 50 prendo un cacciavite giusto per farvi rendere conto che la chiavetta non è sulla verticale della candela ma è già spostata di suo guardate ecco qui giro guardate non è sulla verticale così sarebbe sulla verticale ma non lo è si trova spostata già di almeno un 15 gradi non ho un gradimetro ma siamo fermi su questo punto che ora segnerò con un puntino blu mi riposiziono qui lo segno qui nella parte esterna così proprio a rotondo per difetto la Polini dice di regolarle a 2,2 mm prima del punto morto superiore quindi devo tornare un po indietro per arrivare a 2,2 mm con il calibro prendo la misura di 2,2 mm misuriamo il 2,2 mm e allineato ecco qua faccio vedere il calibro che è a 2,2 mm cosa faccio blocco il calibro spingo 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 ancora mi aiuto un po con la mano ecco ci siamo 2,2 dove siamo? prendiamo il cacciavite ecco qua siamo qui guardate il cacciavite dove sta mettiamo un altro puntino celeste sempre arrotondato per difetto non per eccesso perché non voglio esagerare ci troviamo esattamente nel punto in cui vi avevo indicato ora se la casa madre indica così avrà i suoi motivi per quanto riguarda un gruppo termico originale 0,40 19 gradi prima del punto morto superiore che non è comunque la verticale gruppo elaborato colini 23,4 gradi qui quindi ora vi mostro guardate il pistone è sceso di 2,2 mm guardate la chiavetta di quanto è ruotata e guardate i due puntini celesti in questa zona quindi io non credo di aver sbagliato nulla nella regolazione delle puntine almeno nel calcolare i gradi ad occhio perché io non ho un gradimetro e mi devo regolare così quindi se abbasso il pistone di 2,2 mm calibro alla mano guardate 2,2 mm il punto in cui devo regolare le puntine per un gruppo termico elaborato polini è 0,23 a 23,4 ecco in questo punto chiavetta deve puntare in questo punto gruppo termico normale 19, qualcosa perché il punto morto superiore non è come vi ripeto sulla verticale della candela ma è un po' prima perché se io sono sulla verticale il pistone ha già cominciato l'altro giro è sceso guardate il pistone è sceso lo rimetto sul punto morto superiore guardate sale eccolo qui ho lasciato le mani come vedete la chiavetta non è sulla verticale rufus garage spera di avervi chiarito le idee al prossimo video